Fa ancora caldo, ma abbiamo visto, stanno arrivando le piogge, quindi aumenterà che cosa? Lo star male, prima lo stavamo raccontando, i primi sintomi, la stanchezza, sentiamo le ossa che ci fanno male, potrebbe arrivare qualche linea di febbre, allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzare le nostre difese immunitarie, in che modo? Allora, prima abbiamo mangiato il pomodoro, adesso una tisana al... Questo è difficile, è complicato, ve lo faccio dire. Dottor Fabio Rodaro, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Bentornato, medico esperto di fitoterapia e psicosomatica. Che cos'è questo? Che c'è? Questa è una tisana che sfrutta le proprietà balsamiche delle nostre piante, e quindi come vediamo abbiamo il timo, abbiamo la menta, abbiamo l'origano. E qua all'interno c'è? Sia timo che menta? Queste tre piante ci sono. Non le avevo riconosciute, male, devo fare un corso. Allora, intanto le chiedo, dobbiamo alzare le difese immunitarie? Certo. In che modo? La prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare sicuramente è pensare all'organismo in un tutto tondo, è un organismo psicosomatico che si nutre stando all'aria aperta, facendo attività fisica, mangiando bene, avendo buone relazioni e gestendo lo stress, come abbiamo sentito in un altro intervento di oggi. Perché? Perché un corpo sano con un basso livello di cortisolo ci permette di affrontare più prontamente i vari cambiamenti, tra cui anche il cambio di stagione e i possibili malanni che avvengono di conseguenza. Quindi non abbiamo scuse, ci dobbiamo adattare. Pioggia? Adattiamoci. Prendiamo l'ombrello, prendiamo qualsiasi cosa che ci possa coprire e usciamo e passeggiamo. Però, a casa, che cosa potremmo fare? Potremmo anche sfruttare altre proprietà delle piante che aiutano a stimolare le nostre difese immunitarie. Nello specifico abbiamo diverse piante. Quelle che abbiamo sentito più frequentemente, di solito, come immunostimolanti sono l'echinacea e l'astragalo. Due piante, una della tradizione più occidentale, e un'altra della tradizione orientale, delle quali sfruttiamo delle proprietà proprio di aumento non solo delle cellule, ma anche di quelle molecole che ci aiutano a rispondere più prontamente ai virus e ai batteri che possono arrivare. Allora, iniziamo, facciamo. Facciamo questo tisana, che nello specifico è un decotto. E partiamo da una terza pianta, che è lo zenzero, lo vedete qui. Lo possiamo utilizzare anche fresco. Diciamo che lo zenzero è quello che conosciamo anche più comunemente. Il resto è un po' difficile comunque. Sì, 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 di fatti. Uno se lo dovrebbe annotare e se lo dovrebbe segnare, perché uno si dimentica pure già il nome. Esatto. Ma è tanto utilizzato? Lo zenzero possiamo utilizzare. Invece l'echinacea e l'astragalo sono tra le piante in fitoterapia che utilizziamo di più anche a livello medico. Però comunemente, comunemente la gente le utilizza? Le utilizza sempre di più. Io le terrei in considerazione, perché sono preziose. No, perché è un super consiglio, perché della conoscenza forse pochi lo sanno. Allora, quindi, fette di zenzero. Esatto. Poi aggiungiamo la radice anche di echinacea e si possono usare anche le parti aeree. Le utilizzate? No, intanto chiedo anche dietro, perché dico io, le utilizzo, no, oltre allo zenzero, le utilizzate? No. Allora facciamo bene a parlare. Facciamo bene a parlare, poi utilizzate sì. No, nessuno. E poi l'astragalo, ancora più difficile rispetto alle echinacea, perché a volte delle echinacea vediamo magari queste margheritone anche rosate o bianche che sono presenti anche in alcuni integratori. E le mettiamo tutte assieme, importante, dobbiamo far bollire. Perché bollire, Massimiliano? Perché stiamo usando le parti di piante come il rizoma e la radice che sono più coriacee. Ah, quindi serve, ok. Serve un processo più intenso per estrarne i principi attivi. Ma una curiosità, dottore, ma la tisana, qual è? La tisana è un nome più generico e ci sono diversi modi per fare la tisana. Cioè nel senso, quando fai l'infuso è tisana? È sempre come nome generico tisana, ma se il processo è un'infusione e quindi lasciamo solo la pianta in infusione in acqua bollente, classico, questo è un infuso. Se invece, come nel nostro caso, lasciamo sobollire per 5 minuti, ad esempio, quel sobollire fa parte di un processo chiamato decotto. Decotto, però in entrambi i casi comunque sono due tisane. Esattamente. Ah, non lo sapevo, vedi. Ok, quindi quanto tempo, come mi diceva? 5 minuti a bollire, 5 minuti fuoco spento in infusione e poi abbiamo pronta la nostra tisana per stimolare le difese immunitarie. Ecco, ma anche in questo caso però, quante volte possiamo berle? Perché dicono, ok, sostituisco totalmente l'acqua, in realtà non è così. Non è così, nel senso che le dobbiamo usare con un'azione preventiva al bisogno, quindi possiamo berne fino a 3 tazze al giorno, sapendo di portare un'accortezza, perché soprattutto per quanto riguarda le piante immunostimolanti, qua siamo con dei principi estratti delicatamente come un decotto, però stimolare troppo le difese immunitarie, soprattutto nei soggetti e magari che hanno patologie autoimmuni, bisogna farlo con accortezza, quindi mai più di due settimane di questo stimolo. Ma del tipo, potrei presentarmi la mattina con una tisana e portarla a Daniela? Che bello! Alle 6 di mattina? Qualcosa che mi dia un po' più di tono? Di tono, volentieri. Lo zenzero o no? Lo zenzero è un antiossidante, ma anche poi la stragalo può essere anche un tonico. Io che non prendo il caffè. Perfetto. Domani mattina ti aspetto. Non ho detto domani, però, ho detto la mattina. Proviamo. No, domani mattina, domani mattina. Ritratta subito, ritratta subito. Facciamo il caffè, che più fai? No, scherzo. Grazie, grazie, grazie dottor Rodaro, grazie di essere stato con noi. Grazie mille, grazie mille.